ciao a tutti e bentornati sul canale oggi nuovo video un video un pochino improvvisato come si vede dalla mia miss un video un pochino improvvisato perché ho deciso di rendervi partecipi subito così come ero così come mi trovavo di una piccola grande gioia e soddisfazione per il mio canale e cioè di una collaborazione con oggi vi presento una collaborazione insieme ad una bio profumeria che è la bio profumeria bio emporio natura si tratta appunto di un negozio che ha la sede fisica a parma ma che è anche un sito online di cui naturalmente vi lascerò qua sotto tutti tutti i riferimenti sia per quanto riguarda il negozio fisico sia per quanto riguarda lo shop online con cui da questo momento ho il piacere di collaborare questa collaborazione durerà fino alla fine di luglio quindi abbiamo davanti a noi ancora qualche mese per dedicarci allo shopping sono molto contenta di questa collaborazione perché si tratta di un negozio che rivende oltre una marea ma veramente una marea di brand i marchi che tratta sono i marchi più famosi i nostri marchi preferiti ma anche altri marchi più di nicchia insomma andatevi a spulciare il sito perché c'è veramente da perdersi nella quantità di prodotti e appunto oltre a rivendere tutti i marchi più famosi che noi tutte conosciamo è anche rivenditore esclusivo di alcuni particolari marchi di cui per l'italia questo negozio è l'unico importatore quindi adesso vi spiego tutto mi sono anche scritta due cose perché insomma voglio darvi le informazioni giuste per bene vi scriverò naturalmente qui sotto i codici sconto che sono due a cui io e tutte voi abbiamo diritto applicando quindi questo codice coupon alla fine del carrello e adesso appunto vi dico tutto allora roberta che è la titolare del negozio e ovviamente dell'e commerce e che chiaramente ringrazio ci ha riservato due codici sconto uno sconto del 10 per cento che è logico bio 10 ovviamente lascio tutto qua sotto che è su tutto il sito quindi su tutti i marchi che trovate nel sito tranne quelli che applicano adottano particolari scontistiche soltanto in alcuni periodi dell'anno ma per quanto riguarda tutti gli altri marchi sono compresi in questo sconto del 10 per cento naturalmente per le ragazze di parma o zone limitrofe questo codice è applicabile anche in negozio quindi agli acquisti in negozio e anche a tutti i trattamenti che vengono eseguiti che vengono eseguiti in negozio cioè i trattamenti ai capelli i trattamenti al corpo bio emporio natura è diventato una sorta di centro benessere una sorta di spa quindi si ha diritto a questo sconto del 10 per cento chiaramente nel negozio fisico anche per tutte le ragazze che faranno menzione appunto di essere follower del canale il secondo sconto che è ancora più succoso è logico bio 20 ed è uno sconto del 20 per cento su una serie di marchi che come vi dicevo sono di esclusiva importazione o produzione di bio emporio natura prendete nota i marchi in questione sono emporio natura cioè il brand monomarca del negozio baby boom caffè mimì le caffè de bote e club biologica beauty laboratori botavicos di zao e poi due linee quella sane city di bjurt e tutta la linea glicolico del dottor taffi quindi una linea particolarmente famosa e a noi cara quindi vi voglio soltanto citare proprio a titolo esemplificativo alcuni marchi che rivende bio emporio natura proprio perché possiate subito farvi un'idea delle chicche dei gioiellini che potete andare a scovare sul sito di roberta io mi sono fatta gli appunti perché ci tenevo appunto a dirvi per bene queste cose e sono ma ne cito solo alcuni ma se aprite la pagina trovate un elenco lungo da qui a lì e sono a apiarium che io amo particolarmente cadì biofficina toscana domusole a toscana equilibra già da cosmetics la saponaria maternatura la comi neve cosmetics parentesi bio e molti molti altri c'è veramente da sbizzarrirsi sono due sconti assoluta assolutamente succosi perché il 10 per cento su tutto il carrello non è poco e nemmeno il 20 per cento su questi marchi esclusivi che io sono curiosissima di provare infatti prossimamente vedrete un video in cui vi mostrerò alcune cose che ho ordinato di questi marchi esclusivi non ho specificato però ci tengo a dirvelo che io non ci guadagno niente questo è solo una opportunità molto bella molto interessante che roberta ci dà però io non ci guadagno niente mi fa piacere che possiate provare con uno sconto tutti questi prodotti tutte queste tutti questi marchi alcuni già noti altri nuovi quindi sicuramente scopriremo nei prossimi mesi qualche cosa di bello quindi vi lascio qua sotto riepilogo di tutto quello che vi ho detto questo era solo un video di presentazione della collaborazione per cui vi saluto vi ringrazio andate a curiosare sul sito bioprofumeria emporionatura vi saluto vi ringrazio per essere stati con me vi mando come al solito un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video buona giornata a tutti ciao 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 ciao